Sì! 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 Vuoi che tutti scoprano che non ho rispettato il coprifuoco? Anch'io non l'ho rispettato. Cercavo un locale in cui la mia band potesse suonare. Ah! Io sono uscita perché... Non mi interessa! Controlla se la via è libera. La mamma è dentro e ha la sua copertina dell'attesa. Siamo in un mare di guai. Ragioniamo. Perché dobbiamo fare le cose di nascosto? Che senso ha? Prendiamo il coraggio a quattro mani e diciamole cosa pensiamo del suo coprifuoco. Hai ragione. Affrontiamo il problema da adulti. Allora, mamma, lo so che siamo in ritardo, ma... Tu sei in ritardo! Phoebe, è da più di un'ora che ti sto aspettando. Tuo padre e io eravamo molto preoccupati. Ah, televisione. Non c'è altro di cui mi importi quando sei accesa. Sai quanto fossi preoccupata? Madre... Ci possiamo sedere? Magari anche no. Ascolta... Non sono più una bambina ormai. Sono quella che protegge Edenville. Se ci fosse un problema, dovrei chiamare me stessa. Capisco che senti di essere indipendente, ma sono ancora io responsabile delle tue azioni. Questo ti è chiaro? Sinceramente no. Non ci rimane che accettare di essere in disaccordo. E tu accetta di essere punita per una settimana. La situazione è precipitata. Davvero? Una settimana? Sì. Perché non ti chiami e non ti levi dai guai? Ti prego, mamma! Volete smetterla? Sto cercando di dormire. Scusa, tesoro. Phoebe, la punizione raddoppia perché lo hai svegliato. Se l'ha meritato.